Allora a principi del gennaio del 44 siamo partiti a Dudas da San Damian per via d'Antonio Ferrero siamo andati a Canò, da lì a Chielber, a Fanenda Montagna, a Malestudio, dove c'era tutta la banda c'era Livio Bianco, Ercio Aceto, Alberto Bianco, Nuto Revelli, oh va bene, c'erano i serri, dove c'era Luciano Derrotti, Marco Martorelli, che sopra è un Massaglio Martinet, ma diversi, adesso precivo, ma sono andato fino a Mars, per i miei combattimenti conto i tedeschi, andavamo all'estudio, io ho perso del fedio, io mi faccio l'autempunt, e poi sono ritirato suata Montagna, e io ho incircato una donna, e i tedeschi, non so, perché ci sono tenuti di recuperare da qui, vado a casa, e quello che sta in città, che non può andare in città, sta con noi, non andiamo in Francia. Allora io, me, Dino, Cianco, tutta la squadra, io sono partiti, mi chiedono, io mi sono tornato, e siamo in giù, e io mi sono partiti, sono andato a Roma, io mi sono andato a Roma, e io andavo a Roma, e io andavo a Roma, a Roma, io andavo a formare la sesta divisione alpina, io ero per Bellero, che costava lei che scappò da qua, con tutta la sua famiglia e i fiei, guarda che aveva tre fiei, dunque, il fiei più vecchio era del mio tempo, con i nini, dunque, adesso è stato un'ora del 24, noi eravamo qua nel 22, in cucchiaio, poi in Augusto del 23 e in Dedo del 26, e a Roma a Roma, 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 a Roma. Se, sono mi, per engaginglu al Vote, costava mansare il salvo all'agricchiaio, direi a Roma, appop сюда andavo 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 andato in da ore, della formazione un po' velva in multicam si, come come Mario Gatto, dietro andavo 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 andaba andavo 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 e andavo 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 andavo